La valorizzazione e promozione dei prodotti autoctoni attraverso la creazione di un laboratorio artigianale lattiero caseario è l'argomento al centro dell'incontro che l'amministrazione comunale di Ottati ha avuto con gli allevatori ovicaprini e bovini locali, in particolare sono 25 gli imprenditori zootecnici che hanno preso parte all'incontro promosso all'indomani dell'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza effettuati con fondi del Ministero dell'Interno di alcuni locali comunali posti nella parte inferiore della caserma forestale che ora l'amministrazione guidata dal sindaco Elio Guadagno vorrebbe addibire al laboratorio artigianale lattiero caseario. Uno spazio di trasformazione del latte a norma di legge fanno sapere dal comune che consentirà di realizzare un prodotto di qualità e sicuro secondo quanto statuito dalle normative in materia. L'attrezzatura sarà acquistata dal comune di Ottati e qualora dovesse concretarsi l'interesse manifestato da buona parte dei 25 allevatori, il laboratorio sarebbe gestito da un consorzio o da un'altra formula di associazionismo di scopo. Una duplice sfida, afferma il sindaco Guadagno, cooperare e produrre un prodotto autoctono di qualità. I benefici sarebbero diversi, primo tra tutti abbracciare un mercato oggi inaccessibile, quindi ci sarebbe un'opportunità di vendita maggiore, ma anche un beneficio collettivo, preservare la storia, alla cultura e la tradizione di un popolo che da sempre è caratterizzato dall'agricoltura e dalla zootecnia. Il comune prevede di realizzare per il laboratorio dei corsi di formazione ad hoc che dovrebbero partire entro l'estate. Intanto è stato già programmato un secondo incontro, previsto il prossimo 7 aprile, alla presenza di rappresentanti dell'ASL Salerno. Ora la palla passa agli allevatori, ha concluso il primo cittadino. Dovranno stare insieme e cooperare per un unico obiettivo perché la sfida vera è questa.